Machiwa, area di rigore, difende bene il pallone Machiwa, ci prova, il cross al centro, Firmani, il gol, il gol di Fabio Firmani, al novantesimo minuto di gioco, Fabio Firmani se ne va sotto la curva, Fabio Firmani se ne va sotto la curva, Fabio Firmani se ne va sotto la curva, e vada a abbracciare, e vada a abbracciare lo stemma di Gabriele. Fabio Firmani al novantesimo, va sotto la curva, e vada a abbracciare, vada a abbracciare la curva nord, vada a abbracciare l'immagine di Gabriele per un gol fondamentale.